Con il numero 1 Salve Gantanovic Con il numero 3 Maurizio Isla Con il numero 5 Danilo Con il numero 7 Manuel Badu Con il numero 10 Antonio Di Natale Con il numero 13 Newton Con il numero 17 Menin Beratia Con il numero 20 Guaduolo Zamoa Con il numero 24 Yohan Extra Con il numero 27 Pablo Almeno Con il numero 66 Giampiero Pinzi Con i sostituti del Ministero di Olimpi stasera sono il numero 6 Emanuele Berardi Con il numero 19 Giorno Deis Con il numero 21 Mattei Lider Con il numero 23 Albert D Con il numero 26 Giovanni Pascuale Con il numero 30 Gerry Dubai Con il numero 31 Diego Fabrini